Sabato 20 alle ore 21 la chiesa di Santa Maria della Pieve ad Arezzo ospita uno spettacolo particolare, la musica corale della Vox Cordis insieme alle chiarine e ai tamburi ma soprattutto alle bandiere del gruppo sbandieratori di Arezzo. L'arte di maneggiare l'insegna incontra la musica, è così Presidente? Sì, abbiamo voluto fare una serata diversa dalla normalità, in genere si fanno concerti oppure esibizioni del gruppo sbandieratori. Questa volta abbiamo fatto un insieme, quindi le voci, i suoni, i canti e anche lo sbandieramento. Quindi è una serata completamente diversa rispetto a tutte le altre serate che vengono fatte soprattutto in chiesa. Un'iniziativa nata soprattutto per accogliere una richiesta, un appello del parroco Don Alvaro. Don Alvaro è sempre molto attento a rivitalizzare i luoghi dove lui poi va a incontrare tutti i fedeli. La Pieve è una chiesa che deve essere rivitalizzata al massimo anche se mi sembra che molte persone stanno andando in questa chiesa ma soprattutto questa serata serve proprio per dare ancora più luce a questa importante chiesa che poi dovrebbe essere la prima chiesa di Arezzo. Quali saranno a grandi linee i brani eseguiti e le esibizioni effettuate? Diciamo che ci sarà una parte fatta direttamente dalla Vox Cordis, una parte fatta direttamente da noi e la musica preferita dagli aretini che è Terra d'Arezzo che la faremo assieme a loro. Quindi la caratteristica però è anche questa che ogni qualvolta c'è un brano ci saranno anche delle esibizioni degli sbandieratori. Quindi per un brano della Vox Cordis ci sarà un sbandieratore che sbandiererà, alcuni brani dei sbandieratori ci saranno più sbandieratori, addirittura faremo anche la schermaglia in Pieve e poi faremo delle singoli, delle coppie con lanci di bandiere durante l'esibizione e la performance delle nostre chiarine e tamburi. Devo dire che è stato molto impegnativo perché sbandierare in una chiesa non essendoci molto spazio non è facile, bisogna stare soprattutto molto attenti anche per la caratteristica della Pieve. Però questa volta penso che siamo riusciti a realizzare grazie a Stefano Giorgini che è il nostro coordinatore tecnico, a Edo Bonucci che rappresenta un po' le chiarine e i tamburi con Duranti, sono le persone che sono date veramente da fare e hanno realizzato un insieme veramente importante. Quindi invito tutti gli aretini a venire domani sera alle 21 perché sarà uno spettacolo unico che ad Arezzo non c'è mai stato. Grazie.